Musica Si mette male Parà di rollare tutti i tempi Matello Arnia si è ancora dentro Dividiamoci Io distraggo quella mostruosità Fa attenzione Ci vediamo dentro Bene Bene, sono pronto Grazie a tutti Grazie a tutti No si muove Spero tu sia pronto Non farò tutto il lavoro Non mi batte nessuno Un'altra unità sopravvive. Fondare. Ciutisco da. Adiós a mio amico. Avanzare e attaggiare. Ho mangiato. Adiós a mio amico. Mi difenderemo. Fammi subire. Nimico ferito. Sei il migliore. Adiós a mio amico. Adiós a mio amico. Adiós a mio amico. Per fortuna l'abbiamo trovata prima dell'impero. Possiamo andare, amico. Ora o mai più. I venti soffiano a nostro favore. L'unità a Trivenna è atterrata. È iniziato a scavare sul lato nord del Tempio. Vedrai che non ci vorrà molto per sfondare. Così saremo a casa presto. Bene. Obmanni soffili. Ah! Servirà tempo per azionare quella trivella. Spero che Merrin possa rallentarli. Servirà tempo per azionare. Come va, Biddy? Ti diverti là dietro? Biddy? 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 Woohoo! Ehi, questo ingresso non risultava dalle scantorie amietari. Forse qualcosa si fa proprio campo. Potrebbero essere sensati e il tuo cuore di cui dovremo procedere. Ehi, secondo me. Non ti permetterò di uccidervi. Fatti avanti, insurdo! Impossibile! È sbaglato! Come hai? Valutate le opzioni tattiche! Prendi questo! Ma come può? Presto, c'è un intruso! Dai, fermo! Che cosa fare? La senti di continuare? Davvero niente male. Di solito. Che cosa fare? Parola il fiume. Che cosa fare? Eh, la senti di seguire. Ma è un attimo, preparato la sentita e la sentita. Anche una sentita sul risale. importanti, e poi, E' un attimo. E' un attimo. E' un attimo. Questa però è un attimo. Sbrighiamoci. Fratello Armias non può nascondersi per sempre. Sai cosa fare? Un rifugio per coloro che lo cercano. Il rifugio del pellegrino mi pare molto indicato per le nostre esigenze. La vicinanza all'archivio è l'ideale. E con il tuo intervento, questo tempio tornerà a essere un luogo sicuro per chiunque ne abbia necessità. Concentrati. Non promette bene. Questo posto non reggerà a lungo. Il rifugio del pellegrino ha dei nuovi custodi. Quel droide sentinella può darci problemi. Prendiamo tutto. Ripuliamo questo posto prima che venga demolito una altrivenna. Questo è il terzo tempio che saccheggiamo. Cosa stiamo cercando qui succeda? Non lo so. Non mi interessa. Ma cos'è che stiamo cercando? Chi dice che stiamo cercando qualcosa? Stiamo mandando un messaggio. Spero tu sia pronto. Qualcuno ha eliminato la squadra di battuglia. Che sia stata lei. Non credere a queste storielle, soldato. Le streghe sono tutte morte come i geni. Non credere a queste storie. Di mettermi alla prova contro un geni. No. Che sta succedendo? Ho fatto un grosso errore. Non scapparai. Sono un dago colpito. Avanzare. Ora vai! Non scapperai! Sarà semplice. Il risultato è veloce. Attaccatelo, presto! L'Impero non ha idea di cosa abbia sotto il proprio naso. Ma prima o poi troveranno il rifugio. Dobbiamo muoverci. Iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora nessuna traccia del rifugio del cammino. Grazie a tutti. 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 Proprio al di sotto del Tempio. Perfetto. Così la nostra operazione sarà invisibile agli scanner imperiali. Guarda tu, siamo senza assaltatori a distanza. Centrano. Non puoi fermarmi. Perfetto. 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 Non fatelo fuggire. Non fatelo fuggire. Non fatelo fuggire. Perfetto. 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 Bene, ci siamo quasi. Un'altra pergamena. Quindi si stavano nascondendo qui. Cacciati dall'Impero, sempre in fuga. Sappiamo cosa si prova. Ora guardo. Hanno cercato di evacuare in fretta. Svelti! Fate presto! Di qua! Presto! Tu verrai con noi? Devo restare qui ancora un po'. Andate, non c'è tempo. Chiuderò il passaggio dietro di voi. Che la forza sia con tutti voi. Che la forza sia con un po' di te. Che la forza sia con un po' di te. Che la forza sia con un po' di te. Di sotto. Tranquillo, mi manda Sir Genda La maestra Genda, usi la forza, sei Calcestis Dobbiamo andare L'impero è vicino Sì Ecco perché la maestra Genda deve avere questi Questi codici non possono finire nelle mani dell'impero Attento! Cal, è morto! Prendi questo! Devi fare in fretta, ti proteggerai Va! Non reggerò a lungo! Vai! Non sono riuscito a salvarlo È morto per proteggere il cammino Dai Cal, puoi farcela! Cosa stai aspettando?